Il sindaco d'Arezzo fa una valutazione politica, non fa una valutazione tecnica. Dal punto di vista tecnico dico che il numero dei tamponi è un numero adeguato rispetto alle esigenze dei territori. Ricordo che la prescrizione dei tamponi è fatta dai medici di medicina generale e dai pediatri di famiglia. Se i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia raddoppiassero i tamponi, l'azienda sarebbe in grado di processarli e di esaminarli. Non c'è nessun misconoscimento né dei livelli di guardia né del numero dei casi. Così il direttore generale dell'Asra Toscana Sud-Est in merito alle ultime dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli In un'intervista al quotidiano La Nazione, infatti, il primo cittadino punta il lito contro la regione e il sistema sanitario. Un'organizzazione carente, insufficiente e inadeguata ha dichiarato, ed in merito al numero di contagi, Ghinelli ha definito i dati dopati dal calo tamponi. Non ci troviamo in zona arancione ancora per i pochi tamponi? Allora, la valutazione è regionale. Dire che la riduzione del numero dei tamponi per la città di Arezzo condiziona tutto il destino di un'intera regione mi pare alquanto fantasioso. Ricordiamo anche che il tracciamento ad oggi arriva al 100% in 24 ore, quindi i tamponi si fanno quelli necessari. Il tracciamento è al 100%, lo è da più di un mese, un mese e mezzo dopo la centrale di tracciamento. Arezzo, peraltro, è stata la prima azienda della Toscana dove il tracciamento è stato al 100% e infatti circa il 50% dei soggetti che vengono tracciati come contatto sviluppano l'infezione del Covid nei giorni successivi, a dimostrazione del fatto che il trattamento non solo è efficace ma è anche efficiente.